Ciao a tutti, Dreamlike Moon, vi dà il benvenuto nel 2019 e lo facciamo in compagnia della Not So Berry Challenge quindi benvenuti in questa nuova puntata, oggi è la vigilia di Capodanno, beh in realtà no, per noi è già passata però per Ginko è stasera, infatti oggi vedremo il Capodanno anche per Ginko ed è per quello che ho deciso di iniziare il 2019 in sua compagnia dunque dunque dunque, la nostra Ginko non si sente molto bene e quindi voi avete una qualche idea? Beh, direi di sì, che ce l'abbiamo tutti un'idea bene, allora vai a dormire, in realtà perché se no non ci arrivi tu a stasera e devi arrivarci, molto triste perché vi ricordo che purtroppo la volta scorsa ci ha lasciato il nostro lupacchiotto maschio, il compagno di Ivar, che ha una memoria che fa paura, nel senso che non mi ricordo mai nulla e si chiamava Tracer, povero Tracer, manco mi ricordo il suo nome abbiamo qua la nostra piccolina, la nostra Rossana, che penso che oggi crescerà anche sì, dovrebbe crescere oggi in teoria, per cui speriamo di vedere oggi anche il suo compleanno e abbiamo il nostro piccolo Ruben che ha appena avuto un incidente sul vasino dove cavolo sei Ruben? ah, sei lì, è per quello che non ti vedevo povero, no, non preoccuparti hai tre di vasino può capitare, dai però non porteremo con noi il bambino stasera eh no, perché volevo, infatti lui vuole parlare con Ruben no, tutti, vabbè chiedi della sua giornata, che giornata vuoi che abbia avuto? vabbè, volevo portarli in un locale questa sera per festeggiare un locale che, appunto, ho sistemato appositamente per questa notte porta anche lei a fare una passeggiata breve tu Ruben potresti allenarti ancora un po' perché se riusciamo cosa c'è? non dirmi che stai morendo anche tu, eh, Ivar non ora, ti prego no breve, passeggiata breve, ti prego teatrino non te lo compro fai qualcosa di romantico, sì vai a fare una camminata nella natura davvero si può? Ivar è affamata ahm ce la facciamo prima di stasera prima della mezzanotte, ragazzi chiama Ivar per mangiare vabbè, dicevo ho sistemato un locale nella fattispecie il velluto blu l'ho fatto diventare un locale per karaoke potete anche trovarlo nella galleria eccola, eccola io lo sapevo io lo sapevo che questo 2019 non poteva iniziare bene povera Ivar ero tanto affezionata a lei Ivar ha vissuto un'esistenza felice ricca di ossa, palline e latrati mi è giunto il momento di voltare pagina e raggiungere il grande parco calino del cielo oh no, mi dispiace tanto ecco sarà proprio un capodanno coi fiocchi questo rido per non piangere anch'io ragazzi bene però però eh sì mi è spaventato dal tristo no ti prego non portarmi via anche lei manca poco il compleanno di Ruben yeah rallegramoci nel frattempo perché mancano manca un giorno per cui forse vedremo il compleanno sia di Rossana che di Ruben forse oggi oppure potrei fare Rossana oggi o oggi oggi e Ruben nel prossimo episodio cioè vorrei comunque concentrarmi sul su di lui ecco non avere altro da fare ciao Ivar patata ero tanto affezionata anche a lei se la vi ragazzi se la vi non possiamo farci niente va bene ora se hai finito tristo noi andremo a prepararci per questo capodanno povera patata mettiamola qua vicina a a tracer e volevo che ad Akai andasse a ordinare dei fuochi d'artificio stavo dicendo un sacco di cose prima ordina fuochi d'artificio sì ho sistemato questo lotto che potete trovare il velluto blu in galleria però avendo nel frattempo acquistato altri pack che adesso sono in sconto ho proprio fatto un ambiente un po' più da primo dell'anno ecco non primo dell'anno capodanno proprio festa in grande col maxi schermo e tutto il resto allora ci prendiamo una candela fontana di scintille fuoco d'artificio del mortaio candela romana girandola e poi basta per matrimoni niente va bene acquistiamo questi bastano e avanzano ora usa pulisci vediamo se c'è qualcosa nella posta no ginko in teoria ha altro da spedire sì al consiglio geologico esatto e facciamo così io direi che ci possiamo vedere più tardi nel momento clou perché a noi oggi cos'è che interessa il capodanno per cui sistema un po' la casa perché qua se non la sistemo io loro di certo non lo fanno e poi ci vediamo alla grande serata tra poco tra l'altro perché sono già le 16 per cui è meglio andare cosa stai facendo ascolta la domanda che cosa gli stai chiedendo di stupidaggini tesoro non è il caso di parlare con questo signore vabbè ci vediamo direttamente al locale e insomma è con immensa gioia che siamo al velluto blu e ginko sta chiedendo a odri tesoro perché non mi fa vedere il tuo bellissimo abito da festa sai già dobbiamo venire qua in aereo se poi tu ti presenti nuda no non ti pare che non sia il caso insomma poi qua fa freddino sai ho controllato le previsioni prima di venire qua sul computer ma sì io stare bene anche con un sacco dell'immondizia addosso per cui non ti preoccupare per me comunque ecco se proprio ti fa piacere ecco il mio vestito da festa e adesso andiamo a mangiare che ho un certo appetito ginko a dire il vero no tu cosa stai facendo sta già ordinando da bere già ci buttiamo sull'alcol ad Akai beh insomma ci sono i soliti ignoti no i soliti noti c'è Felipe abbiamo Micaela abbiamo in teoria anche Mico esatto abbiamo la nostra vittima preferita insieme ad Audrey cioè Mike questo Bo è uno famoso abbiamo Laurent oh c'è anche Vanessa bene e senti potete andare qua a parlare sediti che chiacchiera qui e così è come ho sistemato il locale per cui con il mega schermo per fare il conto alla rovescia poi ho messo la fontana di cioccolato c'è qua il bar c'è di cioccolato la fontana per bere quello che vogliamo bere e mangiare adesso magari possiamo servire il cibo trasformare no non si può servi il cibo facciamo tempura di verdure smettila di parlare serviamo la tempura di verdure e gli amaretti alle mandorle saluta a tutti buon anno eh sì va bene tu che stai facendo stai ancora bevendo no stai chiacchierando con Mike lascia perdere Mike e dobbiamo stabilire dei propositi per cui vai qui formiamo anche un gruppo no il gruppo è già formato aggiunge il gruppo non si può fa niente fa niente tanto lo controllo io ad Akai per cui vai qui magari parla un po' con i tuoi amici oh compleanno in diretta tesoro sei diventata adulta complimenti Audrey beh sempre una bella ragazza tu sei adulta? sì stanno tutti diventando adulti Felipe anche Mike pure va bene chiacchiera col tuo amico amichevole brindisi cominciamo con un brindisi condividi lo spirito suona le trombe? sì suona le trombe perché no e la nostra cara Ginko che ha preso qualche bel chilo ma perché eh sì secondo trimestre fra tre ore a quanto pare non me ne sono accorta che è entrata in gravidanza oh sì l'abbiamo visto la volta scorsa sapete che non mi ricordo non me lo ricordo proprio vabbè sì chiacchiera con Audrey e poi direi che possiamo riempire la fontana di cioccolata cioè di cioccolata di facciamo succo di frutta ecco Ginko si dà la fazza gioia speriamo che riesca a dimenticare che i lupocchiotti se ne sono andati sì sembra più vino aggiungi qualcosa in più migliora migliora qualcosa in più cosa vuol dire ho paura va bene è il compleanno di Rossana ok ora al 100% in più di aroma aggiungi qualcosa in più mi fa paura ma voglio provarlo perché si tratta di Ginko va bene fontana sabotata ma non è per niente felice da qui eviterà di prendere qualsiasi cosa gli altri sim facciano attenzione agli effetti della malumissione sul contenuto ma dai hai rovinato il nostro drink allora prendi una porzione insieme per cui adesso si mangia lui ha fame mica tanta per cui lui può prendersi rifletti sulle località esotiche oppure possiamo fare un bel vassoio o di limonata no 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 restiamo su questi felipe deve andare no giulia non felipe deve andare in bagno ma vabbè serve un vassoio di bevande linfa di ciliegio vai mi piace l'idea nessuno che canta però stasera ragazzi cioè è un locale per karaoke questa chi è olly alto va bene tu dove cosa stai facendo stai già bevendo per cui vabbè che triste vigilia di capodanno sta pensando cinque lo so lamentati dei problemi ecco lei è perfetta per lamentarsi dei problemi chiedo un consiglio prima di tutto altre scelte e lamentati dei problemi però potresti anche condividere la grande notizia con tutti e credo che Adakai ancora non lo sappia per cui adesso radunerà qua tutti Adakai non si può spostare da altre parti questo per favore no non si può sono io che non sono stata abbastanza attenta va bene devo anche tenere sott'occhio l'ora perché come al solito poi ci sfugge di mano e non vogliamo perderci questo capodanno giustamente facciamo un tavolino piccolo che sia adatto a questo locale questo mi sembra un po' troppo kitsch no un tavolino normale come questi oh lo mettiamo qua sì s perfetto per cui adesso chiama a prendere la bevanda chi chiama non si sa ma cosa dovrei fare dovrei chiamare mio figlio come i cani ma come i cani ma cosa stai dicendo Ginko ma io ero molto affezionata a loro eh no Ginko mi spiace ma i nomi dobbiamo sceglierli in base al colore rosso tesoro mio perché la prossima generazione è il rosso e lei non sembra tanto contenta di questa cosa però vabbè allora facciamo così lei allora prima di tutto possiamo fare un brindisi oh brindisi della festività perché con questo brindisi lei annuncerà la sua nuova gravidanza e penso che Adakai ne sarà felicissimo ragazzi devo brindare una notizia bellissima anche se mio cuore al momento è spezzato dobbiamo assolutamente brindare perché oh ma sei sicura che non posso chiamare il mio prossimo figlio come uno dei lupi e lui sta pensando ma cosa sta dicendo Ginko eh vabbè brindisi niente proprio non se ne parla vabbè senti diglielo così condividi l'entusiasmo ah no ho fatto una cosa a caso e condividi la grande notizia dai Ginko mi sta rovinando tutta la scena Adakai tesoro ne aspettiamo un terzo lo stavo giusto dicendo a Adri e lui e vai eh vabbè è felice meno male lui mamma mia ma lo curano all'asilo qualcuno si è sporcato senti vai a farti la doccia Laurent oh stanno tutti guardando il canale della vigilia di Capodanno lei praticamente non ha fatto nulla stabilisci dei propositi quindi e quindi adesso dovremmo stabilire dei propositi per l'anno nuovo sai con tre figli e lui è già e senza più lupi e vabbè era arrivato il loro momento ad Akai piantala che fai diventare triste anche me ovviamente devo cliccare sul sim stabilisci un proposito per il prossimo anno cioè per i prossimi sette giorni potremmo stabilire di completare o la pietra miliare nel senso completare la sua aspirazione ma la vedo dura contra figli ricevere una promozione è già più fattibile aumentare un'abilità già più fattibile mettiti in forma perdi peso aumenta un'abilità perché con la malizia ci siamo quasi siamo quasi al 10 e dobbiamo arrivare al 10 completando così penso la sua aspirazione esatto e anche lui stabilirà un proposito per cui potremmo aumentare un'abilità perdere peso ma lui non non lo vedo in carne per cui ricevi una promozione perché lui si adesso vuole concentrarsi sulla sua carriera per i suoi figli Urca sette cresciuta la pancia Ginko per cui brindiamo tutti quanti a questo mio nuovo figlio in arrivo tesoro è analcolico vero? mi auguro di sì va bene abbiamo stabilito tutti quanti dei propositi per cui adesso Ginko può lanciare dei coriandoli festivi con Mike dai perché abbiamo praticamente parlato solo con Audrey per cui condividi lo spirito cantare no fai girare fai ruotare il generatore di rumore ops non volevo cliccare su di lui e i coriandoli dove sono finiti oh lancia i coriandoli tra l'altro dove sono tutti ci siamo persi Miko nessuno sta usando le macchine da karaoke è pazzesco forse non si può ma sì sì che si può niente sono tutti presi dal canale per il conto alla rovescia meglio così basta brindare Ginko e tu guarda la tv e guarda il canale attuale o meglio no guarda la tv di vigilia di capodanno sabato al televisore l'ammazzerebbero se facesse una cosa del genere a capodanno figuriamoci basta bere dai basta 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 come arrivederci te ne avessi il più bello sei stata invitata a un'altra festa più chic immagino vabbè cavoli tuoi no questo è uno famoso va bene Tetsu e il nostro amico dov'è? non c'è più Laurent vabbè allora parla con Felipe condividi il proposito e Ginko potrebbe condividere il proposito con Micaela che si sono un po' perse di vista in effetti con Micaela e quindi attendiamo la mezzanotte ma ancora nuda sei ma porca miseria devo assolutamente metterle a posto gli outfit perché vuol dire che qualcuno non ce l'ha forse gli abiti invernali cosa ci fai Ginko? va che diventi cieca se stai così vicino a parte che non si vede niente perché è tutto a quadrettoni va bene stai dicendo che ti servono degli occhiali? vabbè senti svuota sto schifo per favore dopo dopo svuota lo schifo e adesso si sono bloccati tutti praticamente ho dovuto mettere in pausa perché nessuno faceva più niente ci siamo al conto alla rovescia lui se la sta facendo sotto praticamente però poi lo mandiamo in bagno spero che tenga adoro quando dicono shushubi stiamo tutti rifacendo il conto alla rovescia come ieri sera tutti insieme vero? eh sì stiamo tutti ripassando il magnifico conto alla rovescia che c'è stato non tante ore fa anche per noi e quindi io direi che ci siamo e buon 2019 a tutti quanti tantissimi auguri di nuovo per un felicissimo 2019 io davvero vi auguro che sia un 2019 pieno di cose magnifiche allora vai in bagno usa e Ginko potrebbe anche vabbè svuota questo coso per favore basta piangere svuota svuota la fontana grazie riempi la fontana di succo di mela frizzante e si migliora e poi e poi prenditi un succo di mela e dopodiché il nostro adakai per tirarsi un po' su di morale potrebbe cantare qualcosa per conto proprio ma che brutto per conto proprio lei ispirata canta in duetto forse il gruppo essendosi sciolto no possiamo praticamente non c'è più nessuno se ne sono tutti andati eh già chi è? chiacchiera con Elsa? scusa Elsa stai sbagliando serie mi spiace questa è la notso barri challenge non le reddi di fun in festa allora formiamo un gruppo con con lei qua c'è gente che non conosciamo vabbè canta in duetto country con il nostro carissimo dov'è? non c'è adakai oh santo cielo vabbè facciamo un duetto con chiunque con qualcuno a caso con Kyla vieni Kyla benvenuta non far caso al fatto che Ginko è fuori come un melone e cantiamo insieme a Kyla che carina che è ma è una stella? sì è una stella emergente vai Ginko che è la tua occasione per risplendere cantare con una stella sarà anche una stella messa tornata con una campana non è il canto la sua specialità si è ricominciata la canzone bug bellissimi ma insomma non era così la canzone dai mettiamoci d'accordo su come cantarla ah va bene hai ragione è più intonata Ginko poi potremmo fare un po' di malizia con lei vigilia di capodanno ha avuto successo no i fuochi i fuochi non abbiamo fatto i fuochi però ha avuto successo quindi noi i fuochi li facciamo adesso alle due di notte per cui vai qui insieme Ginko piantala di cantare con questa vai qui basta perché adesso ci sono i fuochi e dopo i fuochi potremmo andarcene a casa e vedere il passaggio di età nella piccola rossana per cui colloca il mondo e luce la piazza nello scenario e dai fuoco in pratica e accendi e guardiamoci tutti quanti i fuochi dove sono? non ci sono ce li siamo persi fa niente fa niente ne abbiamo altri per cui fontana di scintille lo passiamo a Ginko e anche la candela per cui Ginko facciamo la fontana di scintille e prepariamoci allo spettacolo ah no è una fontana di scintille cosa sto facendo? ah sono furba anch'io non starei troppo vicino caro Johnny accendi una candela magica e tu potresti cosa stai facendo? vai qui basta ordinare da bere ti prego oh colloca il mondo e luce guardate lei ho una candela magica verde in mano eh sì proprio giusta come colore eh Ginko ti conviene stare un po' lontano? oh 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 questi sì che riusciamo a vederli yay neanche uno ne ho visto io di fuoco stanotte perché ero in un punto un po' coperto diciamo complimenti per la pettinatura caro Khaled e va bene allora io direi che andiamo a casa perché qua non abbiamo effettivamente più niente da fare questo possiamo metterlo nell'inventario sì metti nell'inventario e quindi ci vediamo a casa per la crescita della piccola rossana e anche per occuparci un po' di Ruben che poraccio sta malissimo eccoci qui dopo aver dormito un po' e aver recuperato così le energie dei festeggiamenti Adakai e Jinko sono qui per vedere crescere la loro figlia femmina e lo farà papà Adakai per cui fai passare di età e godiamoci questa scena io sono curiosissima di vedere come sarà si avrà preso da Jinko da Adakai ovviamente diventerà rossa rossana è passata di età per cui ti attendono giorni in cui ti divertirai con i giocattoli esplorerai il mondo imparerai a comunicare con le parole anziché con le lacrime è il momento ideale per iniziare a sviluppare abilità per il futuro allora io vorrei dare gli stessi tratti diciamo a tutti i figli in modo che poi diciamo che non ci sarà nessuno di avvantaggiato nel momento in cui dovremo scegliere l'erede di seconda generazione perché tutti potrebbero essere l'erede e voglio dare le stesse possibilità a tutti quanti per cui metterò tratti e aspirazioni uguali a tutti oh 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 ma che amore che è troppo carina cioè guardatela guardatela ditemi se non è un amore è troppo bella Ginko cosa stai facendo non farti il bagno datti una calmata piuttosto cerca di calmarti perché qua siamo a rischio infarto tesoro io te lo dico e la prossima volta vedremo sicuramente il compleanno di Ruben perché oggi è il compleanno anche di Ruben segnava che era il compleanno anche della piccola però appena cresciuta per cui oggi è il compleanno di Ruben e sicuramente la volta prossima credo che vedremo anche il parto perché siamo quasi nel terzo trimestre fra 12 ore per cui diciamo che vedremo anche il parto ci concentreremo anche su quello e scopriremo chi sarà l'ultimo dei figli di Ginko e Adakai sì perché terzo e ultimo voglio dire Adakai vero che vuoi tre figli e t'accontenti di tre però però io adesso farei un'ultima cosa e cioè porterei la piccolina a cambiarle gli abiti le faccio subito un makeover e ci vediamo quindi nel cast per vedere il suo cambio look ovviamente diventerà rossa e tutto quanto eccoci qua con la piccola rossana io la trovo davvero adorabile è bellissima ne ho messo anche anche un sacco di lentiggini perché cioè ci stavano tantissimo allora questa è la conciatura io adoro questa conciatura è un cc ed è bellissima secondo me le sta d'incanto è proprio una conciatura da rossana non sa perché e adesso vediamo i suoi outfit ecco qua sì questo è più su un rosa che su un rosso effettivamente però ho pensato tanto questo è l'abbigliamento quotidiano e quindi non lo vedremo molto a parte che potrei anche metterle questo tipo o qualcosa di diverso tanto non importa molto essendo appunto un abbigliamento quotidiano che non vedremo spessissimo potrei anche lasciarle oh sì col lupo su assolutamente allora le lasciamo questo poi con le sue scarpine coccinelle che ho ripreso anche in un outfit più avanti perché cioè le adoro troppo queste scarpine coccinelle poi abbiamo i formali guardate quanta carina sempre con le sue scarpettine e il suo fiorellino azzurro poi da notte ho messo due versioni perché sono gli abiti che i toddler utilizzano di più in generale cioè io non li cambio quasi mai praticamente e quindi questa è la versione un po' più calda per quando ci sono le serate ancora frescoline perché è vero che è primavera ma è appena arrivata la primavera per cui anche se oasis springs non è un posto freddo almeno ha qualcosa di pesante anche se ci fosse una nottata fredda e poi una versione un po' più diciamo estiva una via di mezzo comunque e io adoro questi calzini sono troppo teneri poi da festa mi sono mantenuta più o meno sempre sugli stessi vestiti come state vedendo questo comunque è il suo abito da festa costume da bagno clima caldo appunto perché cioè io li adoro alcuni outfit per bebè per cui non riesco a fare a meno di metterli tutti cioè sempre quelli a un unico bebè sempre con le sue scarpine coccinelle e poi abbiamo per il clima freddo questo è uscito con nuove stelle ma sicuro che non lo avevo ancora visto ed è stupendo stupendo poi coi questi scarponcini da neve ma quanto è tenera non ovicherà mai a oasis springs però vabbè amen ce ne faremo una ragione bene io direi che con questo l'episodio è stato lunghissimo per cui io vi saluto spero che la lunghezza dell'episodio non sia un problema se è così mi dispiace però spero che vi sia comunque piaciuto e mi sono tantissimo divertita a festeggiare con Jinko e ad Akai l'ultimo dell'anno povera Jinko è messa a manuccio dovrebbe anche essere arrivata la posta no arriverà un po' penso comunque vabbè fatti una doccia tu fai le schede didattiche con lei per cui insegna bisogni essenziali diciamo che mi è piaciuto festeggiare il capodanno con Jinko e anche con voi spero quindi che questo episodio vi sia piaciuto se così mettete mi piace commentate e fatemi sapere sì come avete passato questo ultimo dell'anno come avete festeggiato insomma sono curiosa di saperlo e iscrivetevi se siete nuovi per passare un 2019 insieme a me e ai miei sims trovate tutte le serie che sto facendo attualmente in descrizione sono tutte linkate tutte le playlist sono linkate nella descrizione del video così come tutti i social e anche i canali dei miei amici youtubers che vi invito a seguire per cui grazie mille a tutti per aver seguito questo episodio ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti wegg slander wegg slander wegg slander wegg slander missi desi desi A presto